Allora, signore e signori, ben ritrovati qua in Elden Ring, forse è la volta buona che ci scontreremo con Michela, anche se, non so, qualcosa mi dice che non sarà lui propriamente a combattere, magari evoca una specie di avatar, non so, qualcosa, perché essendo un eterno bambino, fanciullo, così, la vedo dura che imbaracci un'arma e combatta, non mi sembra un combattente, da tutte le descrizioni, insomma, che abbiamo trovato, sparse per il gioco, lui ammaglia le persone, ah, ok, aspetta, però, cioè, davvero, è sempre, oh, devo, proprio, devo mettere la torcia per vedere meglio, Corazza di Leda, eh già, eh sì, qua abbiamo ammazzato praticamente tutti, tutti gli NPC di questo DLC, praticamente, o quasi, eh, corazza di Leda, ah, ecco, corazza della Cavaliera del Lago Leda, potenzia leggermente gli attacchi eseguiti dopo una capriola, un passo indietro o uno scatto, è decorata con un intreccio arboreo dorato, mentre il bianco candido di sopravveste e mantello simboleggia l'onore dei Cavalieri del Lago, Michella il gentile ci ha scelti come aghi per reprimere e respingere ogni minaccia, ma è un rimando anche, non lo so, al Lago di Michella, per esempio, vabbè, eh, ok, andiamo avanti, andiamo avanti, questa è sempre zona dove non si possono usare le armi, piccolo lag, è nero, è nero, è nero, è sempre più in alto, eh, ci siamo, ci siamo davvero, ma immaginavo che Leda si frapponeva tra noi e Michella, eh, era abbastanza scontata, come cosa? Ok, molto, molto, anche più in alto della rocca, va, ma che roba, va bene, andiamo, Ah, giusto, scusate, mi sono scorto una cosa, perché con quello scontro per essere più comodo ho tolto tutto e lasciato quello che probabilmente mi sarebbe servito, ho messo anche la Eonia Cremisi, ma alla fine non è servito, ok, quindi, eh, non lo so, allora io rimetto quello che avevo prima, Rimetto quello che avevo prima, quindi, ah, quei due li lascio comunque per primi, che sono praticamente quelli che uso di più, poi mettiamo questo, 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 e poi cosa possiamo mettere? Ma, secondo me la scarica elettrica non serve, Ma mettiamo, dai, Eonia Cremisi e l'altro, farfalle così, e poi boh, non saprei, non saprei, tra quello che ho a disposizione, Io direi, cos'è che era questo, no? Ma, guarda, una roba che non ho mai equipaggiato, magari, è però cura ridotta, secondo me no, secondo me no, 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 mettiamo cura del Lord, magari non serve, però, non fa niente, ok, Anche, Anche Ma, guarda, amore, amore e amore, L'amore lo ti沒有 pranuti a doggiorare sopra. Ma già che lui Lui voleva Sì Tipo resuscitare Radan Oh L'ha fatto davvero Quando era giovane C'è più gioco Promesso consorte Radan Madonna Ehm Ehm Ok E' sempre grosso eh Però E' meno grosso Di quello del gioco base Damno Madonna Non me lo fa fare Quindi scusa Vabbè Ha preso l'anima Del Radan Che avevamo ucciso Da qualche parte Adesso non so Non so Non conosco fino a questo punto Ehm Però cos'è Ha usato il corpo Perché l'avevano trovato O ce l'aveva detto qualcuno O una descrizione Ha usato il corpo di Mog Le carni Le carni Boh No lo so Non domandiamoci troppo Allora Facciamo così Andiamo Ehm Sì Ok Io vorrei provare A farlo sto Appena si distrae Ecco Capire quanti danni Riesco a fare Madonna E che è già morto Praticamente Ho spinto delle pause Ho già la seconda fase Non mi sembra Di avergli tolto Tantissima vita Adesso diventa Più grosso Oh son Eh Lord brother At long last You are returned Tarnished one Aspiring lord of the old order Cioè si è messo sopra come un mantello Laga bestia Come una criniera Eh Sì vabbè Non riesco a farlo No vabbè Le rune Non le raccolgo neanche più Se ne frega Ehm Ehm Quello Allora aspetta Aspetta Non mi pensare Allora Perché con qua Bisogna mettere proprio L'essenziale Questo 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 Al limite Riesco a farlo all'inizio Ma poi non più Tutta questa roba qua È una roba inutile Ehm Perciò io la toglierei Io la toglierei E anche questo Potrei tenere sti due Come prima Altri incantesimi Beh Questo è utile Per abbassargli la vita Anche se è a tempo Mettiamolo Dai Forse quello riesco a farlo Per il resto Il resto Eh no Per quanto concerne Gli incantesimi Con questo Rimaniamo troppo esposti No Forse sti tre Basta Per quanto riguarda Le armi Allora Eh sì La lancia Va bene Da distanza Ovviamente Però sto pensando Secondo me Ci lascia Troppo esposti Questo Per la schivata Va bene Ma per attaccare Non so Fammi vedere Devo avere qualcosa Che attacco E vado Attacco E vado Beh Questa katana gigante Ma anche questo Questa Cacciadraghi Ha quell'attacco A media distanza Che non è male Non è male Questo Non potrò Faglielo Cioè per sempre Potremmo provare Però Allora aspetta E anche Danzargli addosso È da provare Allora Così Se metto Entrambe Dov'è Vado in carico Medio La torcia Io la devo Non mi serve Ok Tolta la torcia Perfetto Perfetto E Sì Proviamo Proviamo Andare Così Non so Tra le due Vediamo E tra tutte Le vocazioni Mi sa Che Tic è L'unico Potrei Provare Guarda Aspetta Così Ah vabbè Fa niente Potenziamoci Anche se non Uso Se ne frega Siamo già Pronti Grazie Vedi Con questo Gli abbassiamo Un po' La vita Fatto anche Lui Eh Porca vacca E dai Vabbè Perché all'inizio Ok E dopo Il problema Eh No No Secondo me Questa Non va bene Dovrei Danzargli Intorno Forse Ho proprio La katana Gigante Che fa Sanguinare Questa La levo Proprio Ho questa Qui Del Del Drago Queste due Teniamo Vediamo Devo Devo riuscire A infliggergli Più Danno All'inizio Così poi Dopo Ho meno Vita Però Oh Sto giro Non mi Attacca Ok 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 Troppo lontano. Iniziamo, ho ucciso subito a sto giro. Sì, è parito il filmato ma sono morto. Comunque è una fase... Madonna. È una fase... La fase 2 parte a tre quarti di vita. Non è proprio metà vita. Provo ancora una volta. Poi mi sa che per questo boss bisogna stare zitti per forza. Però... Aspetta... No. Adesso mi ammazza subito. Ah, ah. Ok. Ok. Allora... No, c'è il muro. Eh, vabbè. Niente. Ok. Grazie a tutti. 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 vediamo. , Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. ci ha detto, Grazie a tutti. l'abbiamo finito. mi parla, grazie a tutti. su internet, e... qua... e... 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 vabbè... e... andrei... in un luogo più tranquillo. della nostra... e... molto molto bello, e... 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 aveva scelta... ma... che poi... e... 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 da... e... 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 pecca... e... 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 ... e... 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 e...